Sono Arianna, ho fondato il blog Le Blogger Siamo Noi nel 2017. Sono Edi delle Blogger Siamo Noi, mi occupo principalmente della pagina Instagram. Io sono Cristina, sono la web editor di questo blog. Il blog mi ha dato tantissime soddisfazioni, prima parlavamo di biologico. Ma scrivo anche di turismo, soprattutto ecoturismo ed enoturismo. Scrivo qualche articolo e poi li vedrete in giro per le fiere perché faccio alcune dirette e alcuni reportage. E poi il blog è rimasto parcheggiato due anni in attesa. In attesa di un'idea, in attesa di un nuovo entusiasmo. Adesso abbiamo sia l'uno che l'altro. A me piace passeggiare per i sentieri e andare in giro anche con il nostro cavallo d'acciaio perché è sempre bello scoprire posti nuovi anche sulle due ruote. Quindi il blog è tornato online, noi siamo cariche più che mai. La nostra redazione è un fermento perché ogni giorno troviamo qualcosa di nuovo da proporvi. Troverete sul blog nuovi argomenti, quindi viaggi, wellness, bellezza, davvero ricchissime. Tante novità interessanti, succulente, quindi insomma saremo sempre sul pezzo e sempre con voi. Da questo posto che è una piccola perla della nostra penisola. Buona giornata a tutti, ciao! Quindi vi aspettiamo, le blogger siamo noi, un bacio da Arianna. Vi saluto e spero di vedervi presto sempre qui sulle blogger siamo noi. Perché le cose belle a volte fanno dei giri immensi e poi ritornano.